O fedelissimo servo di Maria! Sant'Alfonso! Voi che sapete quanto essa merita di essere servita! Amata ed onorata! Impetratemi che io pure comprenda le sue eccellenti virtù per imitarle! E gli eccelsi i suoi privilegi per ammirarla, lodarla ed amarla! Santo mio protettore vorrei anch'io servirla! Come voi la serviste! Amarla quanto voi la amaste! Lodarla quanto voi la lodaste! Ed esserle così caro come le foste voi! Ma queste mie brame sono superiori alle mie forze! Il mio cuore è troppo attaccato alle creature da sollevarsi tanto alto! A voi perciò mi rivolgo mio potente Avvocato! Ottenetemi che io ami Maria! La onori e la serva con tutte le forze! Ed impetratemi specialmente che io sempre la invochi! Col titolo consolantissimo di Madre del Perpetuo Soccorso! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Amato! Il mio cuore è nel principio!